Le celebrazioni per la 72esima giornata nazionale dedicata alle vittime sul lavoro a Quartu nella chiesa di Santo Stefano è stata ufficiata una messa alla presenza dell'arcivescovo Giuseppe Baturi, appello dell'associazione Mutilati e Invalidi affinché il tema della sicurezza sul lavoro torni a essere una priorità per il paese. Gaia Rau. Un invito a riflettere su sicurezza, prevenzione e formazione. È il messaggio lanciato in occasione della giornata nazionale dedicata alle vittime degli incidenti sul lavoro, celebrata a Quartu con un incontro e una messa nella chiesa di Santo Stefano. Presente è anche l'arcivescovo e segretario generale della CEI Giuseppe Baturi che ha parlato di lavoro come espressione di amore, mentre Don Giulio Madedu nella sua omelia ha invitato a riflettere sulle ferite non solo fisiche ma anche psicologiche e relazionali causate da questo fenomeno. Dall'ANMIL è l'associazione dei mutilati e invalidi, un appello perché si combatta una precarizzazione che rende il lavoro sempre meno sicuro. Se mancano i soldi si fanno dei lavori fatti male, dei lavori a strozzinaggio, si fanno i lavori nero, si fanno i lavori al risparmio come si usa dire e automaticamente la prevenzione viene dimenticata. Una riflessione che chiama in causa la politica. Spero che il nuovo governo che entrerà abbia le capacità di ascoltarci e di mettere in pratica ciò che serve perché il lavoro sia veramente sicuro. Quando uno va a lavorare deve tornare a casa. Noi stessi siamo di quelli che siamo andati a lavoro e siamo tornati con qualche pezzo in velo. Occorre una forte promozione di una cultura che guidi i datori di lavoro ma gli stessi operai, gli stessi dipendenti, gli stessi lavoratori nella loro quotidiana azione.